Confusione? Tanta. Melleità? Tantissime. Anzi, a non finire. Questa potremmo in sintesi definire la situazione politico-elettorale in provincia di Salerno e in campo nazionale. Le segreterie politiche sono al lavoro. Gli incontri e le telefonate si incrociano e i referenti nazionali e regionali studiano per tentare di non perdere pezzi per la strada. Le liste saranno un'infinità perché negli ultimi momenti molti leader cercano di crearsi uno spazio politico per poter continuare a contare qualcosa dello scenario nazionale. In provincia di Salerno si stanno dando molto da fare il PDL con Mara Garfagna, Fratelli d'Italia con l'onorevole Edmondo Cirielli, l'Udc con il consigliere regionale Luigi Cobellis e il Partito Democratico che in sordine e senza tanto clamore sta preparando le proprie liste nelle quali si prevedono nuovi volti e nuove figure politiche. Ma parliamo del centro-destra e veniamo al PDL. L'onorevole Garfagna ha preso posto al partito e sta incontrando i rappresentanti politici delle aree che ne fanno parte. Ci dovrebbe essere qualche felice ritorno di deputati che in un recente passato ottennero importanti risultati elettorali. Il riferimento è all'ex deputato Guido Milanese che dovrebbe ottenere uno spazio utile in rappresentanza del leader nazionale Gaetano Quagliariello. Non dovrebbe avere difficoltà il senatore Giuseppe Esposito, molto vicino al presidente del Senato, che dovrebbe essere garanzia per il senatore dell'Agro Nocerino, mentre sorgerebbero difficoltà per alcuni deputati che in verità non hanno lasciato traccia di sé nei cinque anni della legislatura. La Garfagna sarà capolista a Campania 2, mentre si aspettano i risultati dell'incontro che si avranno da oggi fino alla presentazione delle liste. Le notizie circa un'eventuale candidatura del consigliere regionale Monica Paolino al Senato sembrano non avere fondamento, in quanto la consigliere regionale e il marito sindaco di Scaffati Pasquale Aliberti hanno dichiarato a più riprese che in questo momento non intendono assolutamente abbandonare il loro ruolo per occupare spazi politici ai quali non sono interessati. In casa Udc grande confusione. Non si accetta di buon grado che i capolista di Campania 1 e 2 siano stati già decisi e che siano, come già abbiamo detto, figli e nipote d'arte Giuseppe De Mite e Giampiero Zinzi. I cognomi dovrebbero dire tutto. La base dell'Udc sta alzando la voce perché ha notato che di essa non si è tenuta alcuna considerazione. La candidatura eventuale di Luigi Cobellis non avrebbe senso in quanto difficilmente potrebbe scattare un altro deputato. Sarebbe solo di rappresentanza, ma comporterebbe le dimissioni di Cobellis dal consiglio regionale con l'ingresso dell'ex consigliere Salvatore Arena che oggi abita in un'altra casa politica. Tutto liscio in casa Fratelli d'Italia dove il capolista di Campania 2, Onorevole Cirielli, e il suo presidente della provincia Antonio Iannone stanno lavorando per approntare una lista che sia rappresentativa di territori della provincia. Grazie.